Io non so come ho fatto a trattenermi da non rispondere a quei poliziotti E lei se ne esce fuori con pompate qua, pompate là, eh che cavolo, e bastava dire erogatore E lei se si fosse ricordato di avere 5 dollari in tasca, tutto questo non sarebbe successo, è chiaro? Ancora questi? Maiali! Maiali! Eh mo' basta, eh Ascoragiona! Maiali! Rotolo di merda! Bravo, quando ci vuoi ci vuoi Ma che c'hanno da guardare sti maiali? Eh boh, che ne so io? Ma che avete domande da porci? Ok... 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 Ok...